brusco abbassamento delle temperature e nevi in alcune zone del sannio come preannunciato dalle previsioni meteo durante la scorsa notte è nevicato nel fortuna e nel tamaro la neve si è posata anche nel capologo sanita non si sono registrati però disagi alla circolazione intanto la protezione civile della regione campania prorogato l'avviso di allerta meteo per nevicate gelate e vento forte fino alla mezzanotte di domenica 14 febbraio le temperature proseguiranno con il calo termico con le minime che scenderanno al di sotto dello zero su tutto il territorio sono previste inoltre secondo la protezione civile gelate persistenti a tutte le quote venti forti settentrionali con raffiche e anche mare agitato a largo e lungo le coste esposte la protezione civile ricorda alle autorità competenti di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione e senza fissa dimora e di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire contrastare e mitigare fenomeni attesi il centro funzionale la sala operativa della protezione civile della campania proseguiranno il monitoraggio 24 ore su 24 sabato mattina il presidente della regione campania vincenzo de luca ha siglato un'ordinanza con la quale ha vietato ogni genere di festa e forma di aggregazione luoghi pubblici privati all'aperto e al chiuso nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma connesse al carnevale pertanto invita i sindaci ad inibire l'accesso alle piazze e luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al carnevale fatto salvo il transito per l'ingresso agli esercizi e servizi ivi insistenti prosegue in maniera incessante l'azione congiunta dell'asla del comune di benedento in collaborazione con protezione civile misericordia e croce rossa per facilitare la campagna vaccinale degli over 80 una task force come tv7 ha già più volte riferito che a quale missione l'obiettivo di aiutare gli anziani a registrarsi sulla piattaforma oltre che ad assisterli nel caso di spostamenti nei centri siti destinati alle vaccinazioni anti covid allo stesso tempo si sta lavorando anche sulle vaccinazioni che dovranno essere somministrate alle categorie cosiddette fragili al progetto scuola sicura l'asl è impegnata anche nell'analisi dei tamponi positivi dai quali ricercare varianti del covid 19 che tanto preoccupano da qualche settimana la popolazione italiana ai microfoni di tv7 il sindaco di benevento clemente mastella e il direttore generale dell'asl sanita gennaro volpe è stato deciso una grossa collaborazione una grossa collaborazione tra l'asl di benevento e il comune di benevento per quanto riguarda in particolare le adesioni degli oltre 80 anni abbiamo verificato che al momento si sono registrati 2700 persone su 4 mila e 300 oltre 80 anni a benevento quindi abbiamo fatto un'azione che già da domani parte per quando riguarda l'adesione quindi verranno contattati i nostri vecchietti gli stessi vecchietti contatteranno il comune o le associazioni di volontariato che siano messi a disposizione per dare una mano inserire i nominativi nella piattaforma per essere poi prenotati per il vaccino in questo momento noi abbiamo a disposizione 2400 vaccini pfizer pari a 1200 persone da vaccinare abbiamo mille vaccini astrazeneca pari a 1100 pari a 550 persone da vaccinare che sono dedicati in questo momento alla scuola quindi agli operatori della scuola e abbiamo 800 a 800 vaccini pronti moderna che sono quelli più semplici da utilizzare però quelli che veramente abbiamo più difficoltà per quanto riguarda la fornitura quindi le fasi sono uno i vecchietti e gli oltre 80 anni quindi vediamo in base alle forniture abbiamo avuto l'adesione anche della medicina generale nelle riunioni che stiamo facendo quindi è fondamentale quindi in base poi alle forniture che abbiamo passeremo una fase successiva che è sempre coordinata a livello regionale per quanto riguarda scuola sicura come regione abbiamo fatto anche questo la piattaforma è stata attivata i dirigenti scolastici vedranno vedranno quante persone vorranno aderire metteranno dimanderanno direttamente gli elenchi questi elenchi poi verranno poi da noi chiamati dalla settimana prossima ci organizzeremo pure per iniziare lo gente aspettiamo una fornitura maggiore di vaccini perché al momento abbiamo da vaccinare 8 mila persone nella scuola a fronte di mille di mille dosi che abbiamo quindi aspettiamo e la giornata di domani dovrebbero arrivare il termo permettente perché domani le previsioni parlano di neve su tutta la provincia di Benevento penso che si possa dire questo è il modello Benevento esportabile che è costituito dalla forma di collaborazione tra comune, ASL e associazioni di volontariato Croce Rossa, protezione civile e misericordia con i nostri servizi sociali e credo che sia dando buoni frutti perché oggi tutti quanti hanno fatto rilevare che già tanta gente sta telefonando questo per sviluppare quello che è la nostra immunità di greggio cioè più ci vacciniamo più tante persone si vaccinano più gli anziani anche si vaccinano perché il vaccinato anziano elimina il problema se arriva l'abbadante se arriva il nipote, se arriva il figlio, se arriva il parente da lontano e quindi elimina una serie di inconvenienti che possono diventare poi i traumatici stanno facendo quindi mi pare che sia una cosa buona a salvagare della città e della nostra comunità Ancora un decesso all'ospedale Sampì a causa del Covid-19 si tratta di una 78enne di Paduli si registra contestualmente anche un aumento dei casi positivi al Covid ricoverati nei reparti della struttura sanitaria di Via Pacevecchia 40 complessivamente i ricoverati dei quali 34 sanniti e 6 di altre province Sono 1715 nuovi casi di coronavirus invece emersi nelle ultime 24 ore in Campania Di essi 97 sono risultati sintomatici, i tamponi analizzati nella giornata di sabato sono 20.413 La percentuale dei test positivi sul totale dei tamponi eseguiti è pari all'8,5% Sono 19 invece nuovi positivi al Covid-19 nel Sannio su 326 tamponi processati dall'Asdra nella giornata di sabato 3 i sintomatici, 16 gli asintomatici, 37 i guariti ed un decesso 4 custodie cautelare in carcere oltre all'obbligo di dimora per una donna residente in provincia di Napoli Sono queste le misure emesse dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della locale procura nell'ambito di un'indagine della Polizia Penitenziaria di Benevento sull'esistenza di un'attività di spaccio all'interno dell'istituto carcerario ed in particolare tra alcuni detenuti appartenenti al circuito Alta Sicurezza Attraverso il ricorso ad apparecchi telefonici introdotti illecitamente mantenevano costanti contatti con l'esterno per organizzare l'introduzione e la cessione di sostanze stupefacenti gestendo anche la retribuzione ai fornitori I telefoni venivano utilizzati non solo per comunicare con i rispetti familiari ma anche per ricevere istruzioni e fornire indicazioni agli stessi o a terzi in ordine alle modalità di approvvigionamento dello stupefacente al saldo del corrispettivo per la sostanza ricevuta La sostanza stupefacente quindi introdotta mediante colloqui smistata tra le sezioni detentive tramite altri detenuti addetti a mansioni lavorative o facendo calare contenitori vuoti dalle finestre delle camere di pernottamento con le corde Dall'attività inoltre di indagine è emerso anche un traffico di telefoni cellulari per lo più di dimensioni estremamente ridotte e di schede telefoniche con intestatari fittizi attivate a nome di soggetti stranieri risultati inesistenti Le misure sono state eseguite dalla Polizia Penitenziaria in servizio nei nuclei investigativi regionali anche di Torino, Firenze, Bari e Napoli ed in particolare, come dicevamo presso la Casa Secondariale di Benevento con il coordinamento del Nucleo Investigativo Centrale Sabato mattina in Diecese nella zona industriale di Puglianello nel corso di un sopralluogo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Cereto Sanita con quelli della stazione di Amorose unitamente al personale tecnico dell'Enel teso a verificare un eventuale furto di energie elettriche militari seguendo il percorso di un cavo elettrico interrato dopo aver accertato l'esistenza di un allaccio abusivo di corrente elettrica sono giunti ad un capannone all'interno dei locali disabitati e concessi in locazione sono state rinvenute in totale quasi 2000 piantine di cannabis per la maggior parte di 30 cm di altezza e le rimanenti circa 500 piante alte un metro nel corso dell'ispezione sono state scoperte anche le strumentazioni ventilatori, lampade a led e siccatori il materiale con cimi, terriccio e di semi utilizzati per l'intero processo di coltivazione e la successiva trasformazione l'aria è stata sequestrata mentre sono in corso le indagini per risalire alle responsabilità per i reati di furto aggravato di energia elettrica e coltivazione illegale di stupefacenti il sindaco di Benevento ha incontrato sabato Nanni Russo, consigliere comunale dopo un periodo di incomprensione politica i rapporti umani intensi ci hanno consentito di superarla con reciproca soddisfazione detto il primo cittadino il prezioso lavoro generoso e paziente che ha contraddistinto l'azione amministrativa del dottor Nanni Russo continuerà fino al termine della legislatura comunale ed intendo avvalermi della sua esperienza e delle sue qualità anche nel prossimo appuntamento elettorale per me una bella giornata, ha concluso il sindaco il nostro movimento potrà contare su una nuova figura di alto spessore culturale che offrirà il suo contributo su diversi aspetti decisivi e strategici per la città di Benevento si tratta di Paolo Palumbo, professore di diritto ecclesiastico, canonico interculturale giudice-uditore presso il Tribunale ecclesiastico, stimato operatore culturale del territorio a dichiararlo Gianfranco Ucci e Paola Panella e rispettivamente segretario e presidente cittadino di noi campani siamo molto soddisfatti per la condivisione del nostro progetto con il professor Palumbo, aggiungo nei vertici cittadini con lui abbiamo approfondito diverse tematiche un confronto importante stimolato anche dalla presenza del sindaco Clemente Mastella della senatrice Sandra Leonardo, del consigliere regionale Giro Abbate e dei vertici delle sereterie cittadine e provinciale molte forze politiche civiche che da diversi mesi dialogano su problematiche della città si sono date appuntamento per parlare dell'emergenza di una politica ambientale e urbana il 16 febbraio alle ore 17 in diretta sulla pagina facebook di Civico 22 ci sarà il primo appuntamento di un programma complessivo di discussione su temi strategici che riguardano il futuro di Benevento un'agora virtuale che vedrà protagonisti Centro Democratico, Città Aperta, Civico 22 Europa Verde, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Patto Civico riformisti che dialogheranno con i consiglieri comunali ed un ex amministratore della città di Benevento sulle tematiche ambientali e le questioni urgenti che attanagliano la città lunedì 15 febbraio sarà in edicola ancora una volta il sannio quotidiano con la musica Benevento i protagonisti l'originale rubrica ideata e curata dal maestro Enrico Salzano critico e storico musicale questa volta punta alle sue vivide luci su il batterista Tullio De Piscopo l'intervista al musicista riconosciuto per l'istrionismo l'incredibile attualità di arrangiamenti, di concezioni dittime e per quel senso spettacolare che ne fa un personaggio singolare Prosegue con tanto entusiasmo il nuovo progetto Art Joe Air Design Salon uno staff di professionisti dello stile coordinato da Artur Tufo e Giovanni Pirozzolo sempre aggiornato sulle tendenze e sulle mode che sa esaltare ogni tratto e sfumatura della personalità prendendosi cura dell'integrità del tuo capello per info e prenotazioni 342 52 74 535 Art Joe Air Design Salon è in via Cumpa Ponticelli numero 8 a Benevento TV7 ha incontrato nuovamente i protagonisti di questo progetto ambizioso e di qualità ascoltiamo l'intervista a Tufo e Pirozzolo Oggi vi presentiamo le promozioni che saranno presenti per il mese di febbraio e marzo ovvero la Colorful Air che l'abbiamo identificato in tre pacchetti che sarebbe il pacchetto Basic, il pacchetto Medium e il pacchetto Gold il pacchetto Basic è un pacchetto con colore e piega in promozione al costo di 27 euro poi c'è il pacchetto Medium che sarebbe colore, giochi di colore, toner e piega al costo di 59 euro poi abbiamo l'ultimo pacchetto che sarebbe il pacchetto Gold che sarebbe un vero e proprio Total Look che è compreso colore, giochi di colore, tonalizzante, taglio, piega e ricostruzione con molecola Plex al costo di 89 euro poi continueremo sempre fino al 31 di marzo con la piega in promozione sempre 10 euro per tutti gli aggiornamenti che aspettiamo in negozio oppure seguiteci sulle pagine Instagram e Facebook siamo diventati rivenditori ufficiali di questo grande brand a livello nazionale e mondiale che è la GHD in termini di attrezzi elettronici come foni, piastre e quant'altro in più l'ArtGio Art Design è diventato grande gruppo e fa parte delle clip di Ciro Florio Makeup Artist che è un grandissimo maestro, il Ciro Florio che si occupa di tutti gli eventi a livello nazionale e internazionale e in più al fianco il maestro Florio e il maestro Erminio Aiollo che ci accompagneranno in questo percorso Break Sport, la passione giallorossa in onda lunedì sera alle ore 21 per parlare del campionato di Serie A della terza giornata di ritorno la ventiduesima della massima serie ma soprattutto per analizzare la gara dello stadio Dall'Ara di venerdì sera tra Bologna e Benevento finita con il risultato di 1-1 si parlerà anche del prossimo impegno che si disputerà domenica alle ore 20.45 allo stadio Ciro Vigorito contro la quotata Roma di questo ed altro dunque ampia analisi nel corso di Break Sport, la passione giallorossa spazio e telespettatori attraverso i canali di comunicazione attivati opportunamente dalla redazione giornalistica appuntamento dunque con Break Sport lunedì alle ore 21 sui canali di TV7 È tutto con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone www.tv7.net